Grazie Presidente, brevissimo anche qui, ovviamente Roma Capitale soffre molto del fenomeno della prostituzione, l'impegno è sicuramente condivisibile, spero per tutte le forze politiche in aula, ma soprattutto volevo sottolineare un impegno, che è quello di farsi portavoce presso le istituzioni sovraordinate competenti affinché attuino politiche volte a contrastare la tratta degli esseri umani e sfruttamento sessuale da prostituzione, ovviamente per contrastare il legame stretto tra prostituzione coatta e criminalità organizzata, questo può farlo soltanto l'ente sovraordinato. Consegniamo il nostro voto favorevole, grazie.